Gli schiavi erano l'asse portante dell'economia romana, poiché fornivano mano d'opera interamente gratuita. Come si diventava schiavi? Gli schiavi erano per lo più nemici fatti prigionieri, oppure quanti perdevano la libertà a causa dei debiti. Erano presenti a Roma fin dall'età arcaica ed erano impiegati soprattutto nel lavoro dei campi, all'interno di un'economia familiare fondata sulla piccola proprietà. In seguito furono utilizzati anche per la incostruzione di imponenti edifici e altre strutture, ma anche nelle miniere. Lo schiavo era considerato come la terra, il bestiame e gli attrezzi da lavoro, parte del patrimonio ed era sottoposto al potere assoluto del pater familias, che aveva su di lui diritto di vita e di morte, come del resto su tutti gli altri membri della famiglia. Poteva accadere che il padrone decidesse di liberare il proprio schiavo, o per motivi di gratitudine, dopo un onesto e lungo servizio, o perché lo schiavo era in grado di pagare il suo riscatto. In questo caso lo schiavo diventava un liberto e otteneva la libertà e la cittadinanza romana. Di solito i liberti diventavano i clienti dei loro vecchi padroni.